L'hype attorno alla dodicesima generazione di processori di Intel, tali Alder Lake, risulta essere già a livelli molto alti fin dai primi rumor. Sebbene ci sia da attendere il 27 e il 28 ottobre per l'evento Intel Innovation, durante il quale l'azienda svelerà presumibilmente ulteriori dettagli sulla nuova linea di processori, probabilmente anche la data di lancio ufficiale, attraverso i benchmark effettuati da alcuni utenti che hanno avuto la fortuna di poter già mettere le mani su alcuni prototipi di queste CPU, è comprensibile supporre che l'i5 12400 rappresenterà il compromesso perfetto per chi vuole un prodotto che garantisca alte prestazioni senza dover per forza sborsare una fortuna, come nel caso dei modelli top di gamma. Ovviamente non tutte le CPU i5 per desktop avranno la stessa configurazione per quanto riguarda i core. Sebbene il punto forte di questa nuova generazione sia l'architettura ibrida, il core i5 12400 è stato equipaggiato unicamente con 6 core Golden Cobb che vantano tra le specifiche 1.25 MB di cache L2 dedicata per ogni singolo core e 18 MB di cache L3 condivisa. È ragionevole pensare inoltre che sarà possibile trovare il nuovo PCI 5.0, uno slot NVMe di tipo PCI 4.0 e la compatibilità sia con memorie di tipo DDDR4 che DDDR5. Per quanto riguarda invece il rapporto qualità prezzo, l'intel core i5 11400 è arrivato sul mercato americano al prezzo di 190 dollari, dunque ci si aspetta che l'i5 12400 riesca a rimanere sotto i 220 dollari. Con questa somma dovremmo riuscire a portare a casa una CPU che è riuscita a totalizzare 659 punti nel test single thread e 4784 punti nel test multi thread di Cinebench, superando dunque le performance del Ryzer 5 5600X che però si trova attualmente prezzato a 300 dollari. Non più così conveniente a questo punto, ma tutto ciò che possiamo fare al momento è aspettare che i processori vengano ufficialmente annunciati da Intel, in modo da avere dati validi al 100%, su cui basarci per trarre le dovute conclusioni. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video. Grazie a tutti.